c'è un piccolo problema qui c'è un piccolo problema perché non non sono pronto per fare questo video non lo sono bene ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a fare la terza notte del gioco di fnaf raga non sono pronto non sono per niente pronto io ho un sacco paura perché seriamente di già alla seconda notte sono morto una volta alla terza morirò tre volte e anche di più pronti ragazzi anzi devo essere pronto io a morire ho scoperto che bisogna tenere conto non abboni non a nessuno così e così bisogna fare così così poi tac e tac perché perché ho scoperto che fozzi si muove quando non lo teni d'occhio per tanto tempo freddi è raro che si muove è rara la terza notte alla quarta e alla quinta inizia essere più c'è un piccolo problema qui c'è un piccolo problema vedere la verità ragazzi me l'aspettavo che poteva succedere secondo tentativo continuiamo e dai che ce la facciamo dai che diciamo a due minuti e sono di già morto mamma mia che bella goduria io direi di questa notte rischiarla con freddi lo sapete com'è tenendo d'occhio solo fozzi freddi è raro che si muove quindi poi stramango si muoverà questa notte ma io continuo a sentire passi sicuro boni o chica cento per cento se sono di già illettrati nel corridoio e non voglio morire freddi si muove raga sono morto praticamente si può dire che sono morto sento passi si 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 che li sento è meglio controllare foxy per un millesimo di secondo ogni che so 5 secondi e poi fare cose con le luci perché se c'è boni o chica li posso fermare foxy di già se ho visto la sua faccia ragazzi già foxy è partito perché non lo guardo tanto tempo io devo fare tac tac guarda ma prima ho fatto così ma sono morto questo è un problema oddio mio che paura oddio oddio sono andata cica sono andata mi sto un po confondendo a parlare perché sono in molta ansia ma se questa cica non si leva ecco di già è partito raga raga di già foxy è partito ho sbagliato ho sbagliato raga ho sbagliato io ho a di già questa notte raga è partito oh dio mio oh dio mio raga foxy era proprio togli la videocamera dio mio gioco va lento pure quando il gioco va lento metti in ansia perché non sai che quando io la vedo camera se di già sono entrati boni e chica perché se entrano loro siamo tutti da foxy perché freddi chica e boni possono attaccare solo e solo se noi vediamo le telecamere se noi vediamo le telecamere le togliamo loro ci possono uccidere se non lo facciamo possiamo rimanere così saremo incibile il problema è foxy dobbiamo vedere le telecamere per foxy o se no muriamo ecco di già foxy è quasi di nuovo uscito raga no 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 non ce lo posso fare raga non ce lo posso fare io di già quando andò scaricato sto gioco io di già ho pensato a posto sono morto io non ce la faccio a giocare lo c'è di già non ce la faccio al primo immaginate lo secondo lo secondo fa spaventare si ma te lo immagini cioè di già quando andò stai per essere jumpscherato di già te lo immagini che muori mentre su questo gioco non è tanto è così a caso succede un po' a caso casuale dipende da foxy dipende da tutti però è che foxy non è secondo gioco raga quello lì fa estremamente paura corre e non gli interessa di niente niente ho sentito rumori o è da dove sono io pretesto nella vita reale o è da lo gioco spero che fosse da lo gioco perché veramente mi hanno fatto paura no è in cica in cucina è cica ok se è cica in cucina potremmo essere a posto dal lato di destra ma alla volta non se ne accorge quando ci caesce dalla cucina allora raga 46 per cento 3 di notte con calma con calma dai con calma foxy si sta fermo in quella sua posizione ma lasciamolo così no raga freddy si è mosso siamo buttuti raga siamo buttuti siamo buttuti no raga freddy si è mosso proprio ora si è mosso freddy raga si è mosso freddy si lo so non so che si è mosso perché se senti sentite questa risata è freddy che si muove una volta che fa questa risata si muove adesso siamo fottuti non controllare dueleburure ok è ancora in questo caso non 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 raga non si può non si può raga non si può non si è ok non prze non si è non si è Dov'è Borneo? Borneo non ha attaccato Disattacca Non so se ce lo facciamo Potremmo chiuderci Ma io direi di chiuderci Quando Sono le 5 Vi direi di chiuderci raga Vediamoci Ecco di giornale qua Foxy è partito ora Si è preso tutta l'energia Foxy Era meglio che non lo facevo per tira Perciò Stavolta vedrete che io ero già moscherato Ragazzi Si 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 Per un'altra volta Mi sa No no Secondo me non vengo già moscherato Perciò Si potremmo arrivare Le 6 No Che le 6 arrivo Dai su Che le 6 arrivo Non lo so Che voi Ci siete Le 6 Lo so Che le 6 sono qui Ce l'hanno fatta Ragazzi Sì Che le 6 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 Resto